Musica Buongiorno e benvenuti a Satti in punto. Questa mattina vi parliamo dell'esperienza di due giovanissimi che si sono inventati un brand che sta spopolando in rete. Il brand si chiama Pogo, ma è un brand molto caratteristico perché abbina, oltre ad un logo che identifica i capi di abbigliamento che questi ragazzi stanno realizzando, però è una filosofia, chiamiamola così, un po' provocatrice, una filosofia ironica. Infatti al logo, nelle varie maglie, nelle varie felpe, nella parte retrostante della felpa o della maglia c'è una frase significativa, insomma, che potremmo definire borderline. Per parlare di questa esperienza ho qui con me gli ideatori, i creatori, i realizzatori, i protagonisti anche di questo boom in rete e iniziamo con Mattia Dian. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie mille. Allora, come nasce questa vostra esperienza? Io e Samuele ci siamo conosciuti ormai tre anni fa, grazie a un'amicizia in comune, abbiamo istratto un rapporto normale, abbiamo fatto le nostre uscite e alla fine sia io che lui avevamo dei nostri progetti. Avevamo iniziato, io avevo aperto vari commerce, lui aveva già lavorato su altre attività e abbiamo deciso di lavorare assieme. Come primo progetto abbiamo aperto dei negozi online che vendevano vari prodotti. Siamo partiti vendendo dei prodotti per la pelle per poi spostarci su dei led per la camera o delle pantofole, finché un giorno abbiamo deciso, comunque perché la passione per la moda ha comune entrambi, di lanciare un brand di abbigliamento, però nel creare proprio una famiglia, un gruppo. Un gruppo che però ha come base, perché queste frasi che sono insomma frasi, chiamiamole borderline, che hanno un significato che può essere un significato tosto? Che è anche ironico, però insomma non tutti magari possono pensarla in questo modo. Da cosa nasce? La volontà per provocazione? La volontà per far capire alle persone anche di prendere la vita con serie, cioè di non essere troppo autocritici e di prendere la vita con spensieratezza. Quindi abbiamo deciso di partire con delle frasi basate sull'autorionia all'inizio, in modo tale da prendere la vita alla leggera. Inoltre era anche un modo per distinguersi dai competitor e poi per creare un gruppo di persone come noi che hanno questo obiettivo. Non c'è il rischio che possiate scadere nella volgarità? Come riuscite ad arginare questo rischio? Comunque cerchiamo di fare frasi sempre velate, che non vadano dritto al sodo e poi principalmente questo. E comunque state riscotendo un successo enorme, avete iniziato con l'e-commerce e poi avete abbinato i capi di abbigliamento. E come funziona l'acquisto, la produzione? Posso darti del tuo? Ci puoi svelare che poi tra l'altro il Pogo, che è il logo caratterizzante, il brand, ce l'hai proprio ricamato mi pare sul maglione. Questo è ricamato. Eh, molto bello. Noi disegniamo i capi, generalmente Samuele disegna i capi e abbiniamo a una scritta e in base comunque se è estate facciamo le t-shirt, se è inverno, felpe, magliette, maglioni. Vengono prodotti da varie aziende, collaboriamo con varie aziende. Poi vengono mandate a un magazzino che abbiamo a Pavia, questa società, che si occupa di spedire i pacchi per noi. Noi un giorno del mese mettiamo i prodotti disponibili sul sito, le persone sanno questa data perché facciamo pubblicità sui social grazie agli influencer. Vanno sul sito, acquistano e poi vengono spediti dalla società che si occupa della logistica di Pavia. Il brand Pogo, cosa significa? Pogo significa quando ai concerti o in discoteca le persone saltano e ballano, quindi vanno a creare un gruppo, anche se non si conoscono, quindi proprio nel creare un gruppo, una famiglia. Quindi la comunità che poi è il vostro obiettivo da realizzare in rete? È un po' questo? Sì, è creare un gruppo che la pensi come noi, principalmente questo. E qual è il vostro pensiero, la vostra filosofia? Perché siete giovanissimi, quindi evidentemente in questa voglia di provocare, ma sempre con, chiamiamolo con stile, perché appunto le frasi sono frasi strong, ma sono velate, nel senso che non sono frasi volgari, sono frasi che possono avere anche ovviamente dei sottintesi, che si possono capire e non capire, poi magari il significato può essere abbastanza diretto. Quindi c'è tutto un lavoro anche sotteso a questo vostro progetto. Cioè volevo capire un po' come nasce questa idea che sta spopolando. Sì, cerchiamo quando facciamo le frasi di non essere troppo offensivi, quindi cerchiamo di fare proprio delle frasi velate. e c'è molto lavoro dietro perché comunque i capi partono da zero, li realizziamo tutti noi, facciamo dei campioni, vengono apportate delle modifiche, anche il fit principalmente lo realizziamo tutto noi perché vogliamo che abbiano una vestibilità molto cropped e anche oversize. Eh, sono questi gli elementi caratterizzanti anche della moda che in questo momento si sta affermando, corto e largo, un po' ricorda i paninari degli anni Ottanta. C'è un'ispirazione a questo? Sì, comunque anche un po' di ispirazione l'abbiamo presa da quel periodo lì. Perché quegli anni vi sembrano che siano stati anni belli? Non avendo lì voi vissuto lì, però perché vi ispirate a quel tipo di linea? Perché c'era comunità, perché c'era la comunità. Sì, c'era anche la comunità. Che non era in rete, ma erano, noi, insomma, siccome io rappresento un po' quella generazione, noi ci trovavamo i famosi ragazzi del muretto, no? Ci si trovava con il motorino che era il ciao, il boxer, adesso magari voi non ridite di fronte a questa cosa, ci si trovava appunto in un punto, in un parco e lì si chiacchierava e indossavamo tutti i piumini con gli smile che poi in qualche modo mi ricorda il vostro pogo. Il vostro pogo come nasce questo? È stato proprio disegnato in modo molto semplice, quasi spontaneo, che è una cosa anche che ci accomuna e che accompagna il brand, proprio questa spontaneità, anche come ci vengono in mente le frasi, come troviamo i prodotti, gli influencer. Quindi avete anche dei protagonisti, degli influencer che in qualche modo pubblicizzano i vostri capi? Non siete voi i protagonisti? No, i protagonisti soprattutto sono i membri, perché ogni volta ricondividiamo le storie, li ascoltiamo molto, li rendiamo molto partecipi di questo progetto. Poi i prodotti vengono sponsorizzati proprio dai content creator, alcuni ci iscrivono anche loro che vogliono la merce e gli mandiamo il prodotto e loro fanno delle stories, dei contenuti, dei video. Abbiamo lavorato con youtuber, cantanti, comici, quindi con tutto il mondo dello spettacolo. Insomma, quanti followers avete in questa comunità? Quante persone fanno parte di questa comunità? Adesso su Instagram siamo a 10.000 followers, 10.600. In quanto tempo? È in 8-9 mesi. Pensate, ed è un trend in crescita? Sì, cresciamo costantemente, soprattutto grazie ai contenuti che pubblicizziamo, che sponsorizziamo e anche questa scritta va molto tra i giovani e quindi è quella che la rende virale. C'è una scritta che prevale su altre? Sì. Che è un po' lo slogan, tra virgolette, del brand. Ma è questo slogan del brand che per motivi ovviamente di discrezione e anche di regole ometteremo. È anche un modo per affermare, insomma, ma anche un modo per parlare di autostima, di accettarsi come si è e di far accettare in una comunità tutte le persone. Perché leggendo, insomma, è questo, si parla di sei come sei, mi sembrerebbe una versione un po' più strong, nel dire ognuno è come è ed è sufficiente quello che è. Sì, anche quello, quindi non farsi problemi sull'opinione che hanno magari su tematiche che non dipendono da te e le altre persone. Quanto è importante essere ironici e autoironici? Secondo noi molto. Ti aiuta molto durante tutta la fase della vita e anche quando succedono quindi delle situazioni un po' scomode o quando hai delle disavventure, secondo me l'autoronia fa molto, ti aiuta molto. Oggi credo che i giovani, vedendo magari il successo di alcuni influencer, o anche, insomma, pensano che facendo il Continent Creator, fai un video, poi lo metti nei social, arrivano i like e guadagni soldi a palate. Invece non è proprio così. Ecco, come funziona? Raccontiamo anche perché sembra semplice, sembra tutto semplice, sembra tutto facile, ma in realtà come si deve fare per iniziare ad avere seguito e poi ad alimentare questo canale che poi è come se uno avesse un negozio, avesse una vetrina anziché averla fisica, ce l'ha in rete. Ci vuole tanta costanza, a noi è venuta in mente l'idea del brand a gennaio, quindi abbiamo trovato i primi fornitori, abbiamo capito come realizzare, come creare il sito, come sponsorizzare i nostri prodotti. A febbraio siamo partiti con la prima vendita, generalmente puntavamo ai nostri amici e anche agli influencer proprio per pubblicizzare il marchio. Abbiamo continuato, continuato perché all'inizio i video non partivano, non andavano virali, facevamo pochi like, poi ogni tanto ci venivano spinti poco. Ma adesso avete capito perché? Qual è il meccanismo che rende, visto che appunto voi siete del settore, dovete anche studiare, qual è il meccanismo che all'improvviso rende un video virale? Quali sono gli elementi? Perché poi non è facilissimo da capire, perché spesso diventa virale qualcosa che non ha nessun senso e forse perché non ha nessun senso piace. La spontaneità, noi quando chiediamo, quando collaboriamo con i content creator, non chiediamo mai di fare un video pubblicitario, proprio di essere spontanei. I video che sono andati di più, che hanno fatto quei 700-800 mila visual è perché erano proprio spontanei. Quindi aprivano il pacco, raccontavano ai loro followers cosa c'era dentro e erano proprio contenti, quindi era una reazione genuina. Come li scegliete l'influencer? Principalmente scorrendo sui social e cerchiamo di rivedere in loro anche i principi che noi vogliamo mandare, tramandare. E perché non essere voi stessi influencer, cioè interpretare voi stessi il brand, del resto l'avete inventato voi? Perché non vogliamo che dietro a poco ci siano due persone, ma che sia proprio una community, tutti, facciano parte tutti i membri, proprio per quello, quindi abbiamo deciso di non comparire. Quindi gli influencer non sono influencer di professione, ma sono influencer che fanno parte della vostra comunità? No, sono influencer di professione, soltanto che non fanno dei contenuti, quindi non sono ripetitivi durante tutto l'anno. Magari li sponsorizzano a gennaio, poi li richiamiamo verso marzo, quindi ci sono anche dei periodi di pausa. Quindi nessuna persona viene associata al brand. Quali sono le caratteristiche dei contenuti che voi richiedete per promuovere il vostro brand? Chiediamo che il prodotto venga indossato, oppure che lo raccontino, che facciano l'unboxing, quindi che aprono il prodotto, o che lo utilizzino proprio loro, devono andare a un evento, devono fare una situazione normale della loro vita, che indossino il prodotto e che lo raccontino, ecco. Tu parli dell'unboxing, non è ormai inflazionata come azione che si vede? Tutti fanno questi unboxing, a seconda no, perché ormai di influencer, blogger, di persone che raccontano tutto quello che si può essere raccontato in rete. Anche se sono disparati, c'è chi racconta un luogo, c'è, per esempio, io vedo il Sego di Notte, che sopra di insonnia, quindi cercano queste cose. C'è anche una nonnina che è simpaticissima, che anche lei però adesso è entrata in questo loop dell'unboxing, perché gli stanno mandando regali per Natale. Non è diventato un'azione ripetitiva, non è il momento di inventarsi qualcosa di nuovo. Con noi funziona perché sul pacco, su ogni pacco che spediamo, scriviamo una dedica. E quindi è una dedica, anche questa ironica, e quindi quando ricevono il pacco, magari c'è scritto non mostrare il contenuto ai tuoi genitori, oppure i tuoi genitori non dovrebbero saperlo, o il corriere sa già tutto, crea un po' di stupore. E quindi anche magari i genitori mandano le foto ai figli, cos'è questo? Ma solo ragazzi comprano i vostri capi d'abbigliamento? Non c'è magari un genitore che... Ultimamente sì, comunque dai 15-16 anni ai 35. Dove vi fate produrre ai vostri capi? Cioè come funziona? I maglioni li abbiamo prodotti con un'azienda di Pozzo Nuovo, mentre per le felpe stiamo collaborando con una società di Padova. Quindi al momento solo felpe, magliette e maglioni? Felpe, magliette e maglioni, adesso usciremo con altri pezzi, jeans, bomber. Sempre però questa linea che richiama un po' la fine degli anni Ottanta? Sì, con questa vaccina. Ecco, ma come mai? Sono curiosa. Come mai questo mito degli anni Ottanta? O forse perché è un abbigliamento informale, perché probabilmente è stato il primo approccio dopo gli anni Settanta, dove effettivamente magari ci si vestivano con un look da figli dei fiori. negli anni Ottanta, fine anni Ottanta, nel Movimento dei Paninari, era l'underworld, chiamiamolo così, che diventa protagonista anche di un gruppo. Era finita la contestazione, sono stati gli anni in cui probabilmente non c'era la consapevolezza che non ci fossero problemi, anche se di fatto ce l'erano. Quindi è forse per questo, perché era molto fuori dagli schemi quell'abbigliamento? Sì, abbiamo cercato di creare un progetto al di fuori dagli schemi e anche comunque proprio una famiglia, quindi proprio per questo. Posso sapere che cosa pensano i vostri genitori di questo progetto? Sono contenti che portiamo avanti un progetto, stanno cercando di capire come funziona la produzione delle maglie, gli e-commerce, però sono... E sulle frasi non hanno niente da dire? Allora, i miei genitori no, forse una volta su una frase, ma stanno cercando di capire. Io ho genitori molto giovani, quindi capiscono. Bene, ringrazio Mattia Dianne, adesso andiamo a conoscere perché il tempo scorre. l'altra parte di questa idea di Pogo, che è Samuele Amaranto. Pogo come ideazione, perché poi Pogo è una comunità, mi pare di aver capito questo. Torniamo tra pochissimo, grazie. Grazie.